Ciao, siamo nella scuola di economia e management e oggi vi parleremo del corso di laurea in economia e commercio. Il corso fornisce un quadro il più completo possibile sulla realtà aziendale. Lo studio si concentra in particolare sul contesto economico giuridico dell'azienda. L'università non fornisce soltanto un apprendimento teorico, ma mette in contatto gli studenti con professionisti del settore e realtà manageriali del territorio. Il curriculum in economia e gestione aziendale si concentra principalmente sulla stessura dei prospetti di bilancio e sulla contabilità, mentre il curriculum in economia e management si concentra sulle attività organizzative, manageriali e di marketing. Grazie a tutti!